Sono state inoltrate da quasi otto mesi, al momento non c'è alcuna risposta, le richieste di intervento per la riparazione o la sostituzione del refrigeratore che si trova nei locali dell'unità operativa di riabilitazione di via Madonna della Rosario a Gela, retta dal dottore Salvatore Ferrara. E chi ne soffre maledettamente sono gli utenti ed anche gli operatori. L'estate è già arrivata e il caldo è soffocante ed entrare in quell'ufficio rappresenta una vera e propria odissea. La struttura insiste in un unico piano con ampio luciarnaio e le temperature sono altissime. Uno che fa la riabilitazione con questo caldo uno non riesce bene a fare perché si suda, con questo ambiente non è normale. E lasciate tutte le finestre aperte? Certo, e anche le porte aperte. Guarda che caldo, un fuoco avevamo. Ma come mai mi stranizza questa cosa che non ci sono qua, l'aria condizionata? Un ambiente pubblico, quindi ci vorrebbe, no? Io invito ad attivare l'aria condizionata. Perché qua c'è tanto caldo. Eh, che caldo si muore, troppo caldo. È un disagio continuo e non solo in estate. Io l'altro ieri ho rinunciato a fare fisioterapia perché qui c'era una stufa enorme, una serra. Si poteva piantare il ceregino siciliano. Anzi, dobbiamo ringraziare anche questo inverno che si muoreva dal freddo, il dottorizia, che portava la casa, la stufa per riscaldarci. Io ora mi sto riposando per fare, faccio l'allenamento a step perché qua caldo non ce la faccio a fare, a fallo intero. Basterebbe mettere un condizionatore a pompa di calore, uno per ogni stanza. Io penso ignorantemente che non sono del mestiere, perciò si potrebbe risolvere la questione. Grazie. 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 Grazie.